Ha già acquistato con i saldi? Ancora no. Che cosa acquisterà? Beh, probabilmente delle magliette. Vi fa un po' il guardaroba? Non sono magliette, è bermuda. Anche perché adesso ci siamo e con lo sconto approfittiamo. Anzi, i commercianti noi li ringraziamo pure perché è importante. Abbiamo comprato un vestitino per una bambina. Per sua nipote fa un anno. Ecco qua. Questo qua. E una magliettina. Quindi tutti vestiti? Sì. Vestitini? Sì. Ah, ce ne fa proprio vedere. Ecco qui, vediamo allora. Questa per la bambina. Abbiamo comprato anche un paio di pantaloni. Avete risparmiato con questi saldi? Per gli sconti? Abbastanza, non tanto direi però. Va bene così. Almeno, grazie a Dio ci stanno. Con i soldi ho acquistato un vestitino di Elisabetta Franchi per il mio diciottesimo compleanno. Però, tanti auguri allora. Grazie. Lei ha già acquistato qualcosa? Guardi, ho acquistato qualcosa a Roma prima di venire qui in vacanza e intendo acquistare altro per il momento. Che cosa ha acquistato? Vestitari un generico. Perché alla fine magari i capi più pregiati rimangono a prezzo pieno anche durante i saldi. Quindi alla fine non approfitto per i saldi ma li acquisto durante l'anno comunque. Una corniglia e una camicetta. Bene, bene. Lei invece signora? Io ho un po' di robetta intima. I saldi sono iniziati. Qual è la percentuale di sconto che applicate ai vostri clienti? Attualmente siamo partiti con il 30%. Diciamo che c'è, ci sono tante percentuali che molti colleghi aprono. Però generalmente la scontistica iniziale media è del 30%. Come vanno le vendite? Beh, devo dire che sono partite bene, un po' per quello che abbiamo fatto la notte dei saldi. Diciamo il venerdì abbiamo avuto qualche complicazione con il tempo che non ci ha aiutato. Invece sabato devo dire che c'è stato molto movimento.